Sul primo punto, il Senato dell'autonomia è una risposta chiara che andiamo in un'altra direzione, cioè diamo voce e cerchiamo di tenere negli occhi lo sguardo dei nostri cittadini dai territori ed è evidente che non si può pensare che il Sindaco di Roma, per non parlare dei nostri sindaci, non sia legittimato a rappresentare le istanze di Roma, ha preso 700 mila voti mi pare, quindi è ridicolo pensare che non sia sufficientemente autorevole perché non è eletto direttamente nel Senato, lo è perché è stato eletto come sindaco, punto. Quindi noi vogliamo la voce dei cittadini e dei territori dentro al cuore del potere romano, questa è un'operazione innovativa che fu tentata nella Costituente e fallì per problema di compromesso politico, punto, questa è la verità. L'applauso è chiaramente per Pertici. L'applauso è per Pertici dove tutto è nato, senatori non eletti e non pagati. Il professore Pertici. Grazie, buongiorno a tutti e appunto questa riforma nasce così, non nasce neanche nel governo precisamente perché nasce quando il nuovo segretario del Partito Democratico non è ancora capo del governo. È il 6 febbraio del 2014 e il Sindaco di Firenze partecipando all'Assemblea di Confindustria che si svolgeva nella sua città ci dice che ci dovranno essere senatori non eletti e non pagati. Questi sono due dei quattro paletti che il governo appunto metterà, che già dalla direzione nazionale del Partito Democratico di quel pomeriggio verranno messi, che saranno appunto senatori non eletti, senatori non pagati che non danno la fiducia e che non votano il bilancio. Da questi paletti alla fine tutta la discussione non si è mai discostata. Si sono succedute appunto diverse proposte, appunto in quell'occasione Renzi disse 108 sindaci, 21 presidenti di regione e 21 esponenti della cultura, diciamoci un senato santa Cecilia. Però diciamo siamo arrivati a questo testo che abbiamo oggi di fronte che sono appunto 21 o 22 sindaci, ci sono poi 74 o 73 consiglieri regionali, qui già i costituzionalisti discutono, e poi appunto 5 senatori di nomina presidenziale. Ecco, questi senatori si dice non sarebbero pagati. Ora, la questione delle indennità parlamentari è una questione che la Costituzione prevede come principio di civiltà, cioè ciò che consente ad una persona che vive di reddito e non di rendita di poter fare il parlamentare. E infatti nel Regno Unito è stata introdotta quando sono andati in Parlamento i laburisti per consentire appunto anche a chi non vivesse di rendita di poter fare il parlamentare. Ma, come dire, la quantità delle indennità parlamentari non è prevista dalla Costituzione, è prevista da una legge del 1965 che la scorsa settimana alla Camera si è provato a modificare. Eppure quella proposta per la riduzione delle indennità parlamentari, una proposta di legge ordinaria che se, come dire, si avesse la fretta che si aveva quando è stato approvato il Lodo Alfano sarebbe approvata in 20 giorni, è stata rinviata già dall'Aula di nuovo in Commissione. Quindi dalla Commissione in Aula, dall'Aula in Commissione, il famoso ping pong che si vorrebbe, che non c'è quasi mai, c'è nel meno del 20% delle leggi e che appunto ci dicono che si supererebbe con questa riforma, in realtà non ha bisogno di due camere, può bastare anche una camera sola per fare il ping pong quando una legge non vuole essere approvata. Ecco che quindi avere portato a livello, diciamo così, di riforma costituzionale, la riduzione dei costi di funzionamento delle istituzioni è stata in realtà soltanto una scusa per rinviarla, perché appunto quando si è approvato a farlo concretamente, anche possibile avere la sua proposta per la riduzione delle indennità parlamentari, la maggioranza ha voluto fare il contrario, ha voluto rinviare tutto a data da destinarsi. Ma quanto, come dire, questa riforma costituzionale ridurrebbe dei costi della politica? Ecco, da questo punto di vista il governo una volta ha fatto una domanda della quale forse si è pentito perché ha chiesto la quantificazione alla ragioneria generale dello Stato, che non è un pericoloso organo di opposizione, ma è un dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze. E la ragioneria generale dello Stato ha quantificato i risparmi provenienti dal Senato in 49 milioni. Una cifra, come dire, irrisoria, che tra l'altro lascerebbe un Senato depotenziato che costa soltanto il 10% in meno rispetto a quanto costa oggi. Ma l'aspetto naturalmente più preoccupante è l'altro, quello dei senatori non eletti. E questo, come dire, è una dichiarazione forte perché significa togliere una scheda dalle mani dei cittadini. Fino ad oggi le occasioni, come dire, di elezione sono sempre cresciute. Il corpo elettorale si è cercato di aumentarlo dal vero e proprio suffragio universale raggiunto nel 1946 col voto alle donne del quale si celebrava quest'anno il settantesimo anniversario all'aumento degli organi elettivi fino a quell'anno, come dire, importante che è il 1970 quando si eleggono per la prima volta le regioni a statuto ordinario e si attribuisce ai cittadini anche la scheda per votare nella referendum. E poi da lì la diminuzione della maggiorità che aumenta il corpo elettorale, l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province nel 1993, la facilitazione del voto per gli italiani residenti all'estero tra il 2000 e il 2001 finché appunto in questa legislatura si comincia a riavvolgere la pellicola. Prima via non le province ma via il voto per le province, poi via non il Senato ma il voto per il Senato. Si parte sempre con la promessa di eliminare l'ente o l'organo, cosa magari discutibile, ma si arriva sempre con il mantenimento dell'organo e l'eliminazione del voto per quell'organo. Ecco che, come dire, quando vi arriva la cartella esattoriale voi vedete l'addizionale provinciale e quindi lì vi ricordate che le province ci sono ancora, però non ve lo ricordate quando si vota, perché appunto quando si vota per le province le province se le eleggono i consiglieri comunali. È lo stesso schema che vi viene proposto per il Senato, che appunto se lo eleggeranno i consiglieri regionali con accordi tra le forze politiche. Cosicché se con l'Italicum ci sarà questa storia per cui appunto la sera stessa delle elezioni si saprà chi ha vinto, per il Senato chi ha vinto si saprà la sera prima delle elezioni, perché appunto questo sarà il frutto dell'accordo tra i partiti politici. Quei senatori infatti non saranno espressione delle regioni, come si dice, rappresentanti delle autonomie regionali, saranno rappresentanti dei partiti politici in consiglio regionale e questo è evidente perché appunto sono eletti dai consiglieri regionali con metodo proporzionale e quindi appunto il metodo che serve per la rappresentanza politica per eccellenza e voglio dire i senatori che saranno eletti in Emilia Romagna per il Partito Democratico secondo voi voteranno come i partiti eletti in Emilia Romagna per il Movimento 5 Stelle o come i senatori eletti per il Partito Democratico in Toscana o nel Lazio o in Umbria eccetera? è evidente che questo sarà l'alleanza, quella per forze politiche e quindi non avremo nessuna rappresentanza delle istituzioni territoriali ma avremo rappresentanza degli organi, come dire, dei partiti politici a livello territoriale. Ma questo del resto, come dire, è in qualche modo confermato dalla stessa distribuzione dei seggi perché se si volessero rappresentare le regioni non sarebbe ammissibile che la Lombardia valga sette volte altre regioni dalla Liguria al Molise all'Umbra alla Calabria eccetera perché se si vogliono rappresentare le regioni appunto bisogna che tutte pesino sono o uguale o quasi uguale. Ma la cosa più assurda è proprio quella che dice il Ministro del Rio in questa intervista e cioè il fatto di avere i sindaci in Senato allora i sindaci in Senato non mi risultano presenti in nessun paese del globo terraqueo. Sono arrivato fino alle costituzioni della Polinesia ma non ho trovato neanche un sindaco in Senato. Cosa rappresenterebbe il sindaco uno per regione? Cioè non ho capito se Del Rio pensa che il sindaco eletto in Senato debba rappresentare la sua città perché lui dice il sindaco di Roma rappresenta Roma in Senato ma è allora tutti gli altri comuni del Lazio e questo ovviamente varrebbe pensato se viene eletto il sindaco di un piccolo comune magari per una questione di accordi politici. Ecco e questo deve rappresentare in Senato il piccolo comune di quella regione e tutti gli altri comuni devono stare senza rappresentanza. È evidente appunto che si tratta di un Senato fatto a casaccio dicendo cose tipo ma i sindaci hanno una certa tradizione e allora come dire dobbiamo mettere anche come dire i rappresentanti dei gruppi folcloristici diciamo così in Senato. No? Voglio dire siamo arrivati veramente veramente all'assurdo. C'è poi l'ultima cosa che è una menzogna che mi dispiace come dire che Chiti che è stato uno dei maggiori avversari di questa riforma lo ricordiamo al Politicamp di Livorno appunto dica che si raccontano balle quando si dice che non saranno i cittadini a eleggere i senatori. Ecco, si raccontano balle quando si dice che saranno i cittadini a eleggere i senatori perché la riforma costituzionale dice una cosa molto chiara e dice cioè che i consigli regionali eleggono i senatori con metodo proporzionale. Poi con un emendamento che io ho definito un rebus dice che questo deve avvenire in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i consiglieri in occasione del rinnovo dei consigli regionali. Un vero rebus come vedete appunto da come è scritto che peraltro riguarderebbe soltanto un pezzo e cioè i consiglieri regionali che in molte regioni sono la metà dei senatori e peraltro nessuna legge potrebbe contraddire l'unica norma chiara quella che dice che sono i consigli regionali a eleggere i senatori. Una legge ordinaria che contraddicesse questa previsione sarebbe ovviamente incostituzionale. Grazie. 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 Grazie.